Come ho già detto in tante altre occasioni, penso che se siamo al completo non siamo inferiori a nessuno. Stasera anche c'erano un sacco di defezioni, però come dici tu il primo tempo forse non benissimo, però loro erano troppo chiusi e perciò abbiamo dovuto provare più volte la conclusione dalla distanza, però il portiere stasera era giornata di grazia e purtroppo è andata così.